Musica Buongiorno a tutti e ben ritrovati carissimi telespettatori di FanoTV Sono le 7 e mezzo e questa mattina come tutte le mattine ci ritroviamo per la lettura dei quotidiani Prima però vediamo il santo del giorno e per le previsioni del tempo Oggi è Santo Maso Beckett Il sole è sorto alle 7 e 41 e tramonterà alle 16 e 40 Allora diamo un'occhiata al tempo previsto dal sito meteorologico della protezione civile delle Marche Dunque per oggi abbiamo un tempo simile a quello dei giorni scorsi quindi lo saltiamo pieppare Domani invece mercoledì 30 avremo cielo nuvoloso nella prima parte della giornata per la presenza di nuvole basse E quindi ancora le nebbie quindi domani mattina ancora più o meno sarà come nei giorni scorsi Poi invece qualcosa comincia a cambiare l'atmosfera ha deciso di modificare qualcosa Sta arrivando oggi sarà sui Balcani questo vortice polare che qui da noi insomma porterà un abbassamento delle temperature E finalmente l'inverno soprattutto in montagna anche sulle nostre montagne Vedete c'è la neve i limiti del limite delle nevicate in discesa fino a mille metri nella serata di domani Le temperature invece saranno in aumento nei valori minimi Il mare sarà mosso per la giornata dell'ultimo dell'anno San Silvestro Il cielo lungo la costa sarà molto nuvoloso Avremo qualche possibilità di isolato rovescio nella mattinata E il limite delle nevicate è sopra i mille metri Le temperature sono in diminuzione Un probabile tempo stabile invece per il resto della settimana Con un possibile peggioramento previsto fra domenica e lunedì Poi daremo un'occhiata anche alle previsioni del meteorologo del messaggero Fazzini Allora cominciamo adesso dai quotidiani Il resto del Carlino Dai ricettatori del museo al colpo di spugna giuridico fino all'ennesimo sgambetto Il quotidiano questa mattina ripercorre un po' le varie tappe Con la storia, la storia di questa statua Che venne ripescata nel 1964 dal peschereccio Ferri di Fano Nascosta in un campo di cavoli Viene poi piazzata a Gubbio Ricompare nel 72 da un antiquario di Monaco Rogatorio internazionale Si scopre che la statua è stata venduta ad una società lussemburghese Nel 78 la vendita al Getty Museum Dove tuttora si trova l'Isippo L'assurda cronistoria di un furto legalizzato Il procuratore Palumbo dice la consulta Ha modificato le regole in corso d'opera E adesso si muove anche la E ora si coinvolgono anche il Parlamento e la Regione Aprire dunque una trattativa con il Getty Museum Il consigliere regionale Mirco Carloni di Area Popolare Dopo la decisione della consulta di annullare la sentenza Con cui era stata chiesta la confisca dell'Isippo Al Museo di Malibu Chiede l'impegno concreto del Presidente della Regione Luca Ceriscioli L'orologio abbiamo parlato appena un minuto fa Delle previsione del tempo E c'è questo articolo interessante Che vi consiglio di leggere Se siete appassionati un po' di meteorologia Ed è questo Lo trovate a pagina 23 del resto del Carlino di oggi L'orologio del meteo è tutto sballato Gli uccelli non migrano Le lepre sono già in amore E sono segnali preoccupanti Ci sono segnali preoccupanti nella nostra provincia È un articolo interessante di Piero Paolucci E di Cesarino Belsamini Che aiutano in qualche modo con questo articolo A leggere i segnali che la natura ci dà In questa stagione anomala E dicono tra le tante cose Molti arbusti autoctoni Come sambuco, sanguinello, corniolo e il biancospino Sono in fase vegetativa addirittura I colori che si possono osservare nei boschi Sono quelli di fine settembre Quindi non di gennaio Non di dicembre Di fine settembre Ancora in autunno Con un corposo fogliame Che ancora resiste sugli alberi Necropoli Picena Così ricca, così povera Andiamo a San Costanzo Sta emergendo un sito archeologico Di importanza straordinaria Dagli scavi in esecuzione a San Costanzo In strada Santa Lucia Qui due anni e mezzo fa In occasione dell'inizio dei lavori Di ampliamento del cimitero comunale Spuntata fuori una necropoli Picena Di notevole rilievo L'erborista Il ponte e la volpe volante Vi svelo i segreti di Noi dell'Arzilla Carboni raccoglie in un libro 70 anni di storia del quartiere Mio nonno, dice l'autore Filippo Carboni Che tra l'altro è anche un organizzatore di eventi Lo vedete in questa immagine Mio nonno, dice Filippo Carboni Il nonno si chiamava Mimmo Curava tutti con le sue erbe Ancora oggi mi chiedono le ricette E il ricavato della vendita di questo libro Sarà devoluto agli ospedali pediatri A Cuba Capodanno Capodanno in Piazza Fano Tra Amici e Cabaret Amici è il programma De Filippi Oltre ai beniamini Appunto di Maria De Filippi I comici di Zelig E il San Costanzo Show Che sarà a teatro Qui ci sono le fotografie E un momento Del momento di festa anticipato Rappresentativo Che c'è stato ieri Durante la conferenza stampa Oltre a Francesco Capodacqua E Valeria Rumitelli Ci sarà anche il rapper Per Cappa E Massimo Morselli In 5000 al presepe di San Marco Un Natale record Nel giorno di Santo Stefano Pensate sono entrati a visitare Questo bel presepe 1250 persone Sono stati davvero in migliaia In questi giorni di Natale Visitatori ai vari presepi cittadini Da quello di San Marco San Paterniano Quello vivente di Torrette Di Fano La cronaca Sulla pagina di Pesaro Del resto del Carlino Banda del Tombino Prova al Cap In un anno I ladri sono venuti qui 12 volte Dicono i profumieri balocchi Qui è un fortino Ma non basta Hanno tentato di sfondare La porta a vetre Con un blocco di cemento Vedete la fotografia E il Tombino in mano Strada per Novilara Liberata dai vigili Piante pericolanti Lungo la provinciale Due grosse piante di acacia Che posizionate sul ciglio Della strada provinciale 60 All'altezza di via Molino Mosca tra Candelare e Novilare Ieri sono state rimosse Dai vigili del fuoco Perché pericolanti Apriamo adesso il messaggero La pagina di Fano Scusate la pagina principale Parla dell'effetto Banca delle Marche E della paura Dei risparmiatori Che dà una mano Al mercato Delle case Tante richieste infatti Alle agenzie immobiliari È un effetto Banca Marche Che si ripercuote In termini Possiamo dire Almeno positivi Sul mercato immobiliare Un contraccolpo C'è stato Ed ha generato L'avvio di diverse Trattative I prezzi sono stabili Ma il mattone Riprende quota Ad analizzare le ultime Tendenze È Emanuele Fiori Presidente del provinciale Della federazione italiana Agenti immobiliari Professionali E anche questa mattina Racconta Una signora Ha deciso di investire Su un immobile Pur di non aver Per i risparmi In banca Feste pesaresi Per Magnini E la sua finanzata Pellegrini La coppia Si è allenata Al Parco della Pace E ospiterà Amici nuotatori Il giorno di San Silvestro Filippo È già a casa Da Natale Per la tradizionale Tombola in famiglia Mentre Federica L'ha raggiunto Domenica scorsa Dicevamo del tempo Allora Dalla Siberia Una massa D'aria fredda E secca Sta facendosi strada Verso occidente Dentro oggi Raggiungerà La penisola balcanica Fazzini Dice Mi sento di escludere Però Qualsiasi episodio Di freddo O tanto meno Di burian Come è stato annunciato Da qualche sito Meteorologico Che ormai Spara Spara sempre più Le spara sempre più grosse O nevicate Escluderei Nevicate A quote basse Questi giorni però La cosa Forse la notizia Buona è che questo freddo Umido Quello Con la nebbia Eccetera Eccetera Il freddo umido Di questi giorni Verrà sostituito Da un freddo secco Sicuramente più Gradevole Consiglio comunale A Pesaro Il presidente Bartolucci Prepara L'addio Alla politica Dopo vent'anni Dice Luca Bartolucci Dopo vent'anni Potrei fare un passo indietro L'annuncio In occasione Del bilancio Dell'attività Che è stata Svolta 25 sedute Critiche Per quelle Spostate a causa Degli impegni Romani Del sindaco Matteo Ricci 25 sedute Critiche Per quelle Spostate a causa Degli impegni romani Del sindaco Metà Dei consiglieri Sempre presenti Sempre presenti In aula Si fa un po' Il bilancio Anche delle presenze All'interno Dei lavori Del consiglio Pesaro Non perde colpi Per la qualità Della vita Oggi È al 32esimo Posto Ed è stabile Rispetto al 2014 Nella posizione Nella stessa posizione In cui viene collocata Dal quotidiano Finanziario Economico Il sole 24 ore Appese a Urbino Il comune Tira dritto L'albero di Natale Quindi Questo albero di Natale L'albero che abbiamo detto E' definito L'albero della discoria Non verrà smontato Non sarà smontato Il vice sindaco Rispinge La richiesta Della soprintendenza E aggiunge Un nuovo capitolo Al suo scontro personale Con Vittorio Sgarbi Che come ricorderete Ha dato Le dimissioni Poi Sulla pagina di Fano C'è lo sfogo Del procuratore Di Pesaro Manfredi Palumbo Sulla Decisione Di far ricominciare Tutto da capo Della consulta Non abbiamo commesso Errori Dice il procuratore Sul tesoro Conteso Si riparte Da zero Sono stati perduti 8 anni Per niente La norma Che ha fatto saltare tutto E' stata cambiata In corso d'opera Questo Resto Fiducioso Dice il procuratore Una volta accertata L'esportazione Illecita La confisca Del bene È obbligatoria E sotto Ne è convinto Anche l'avvocato Tonnini Dell'associazione Le Cento Per l'associazione Le Cento Città Dice La sostanza Praticamente Non Non cambia È convinto Che la sostanza Non sia cambiata La statua Tornerà in Italia È solo Questione Di tempo Poi sempre Sulla Pagina di Fano Del messaggero Amianto Il comune ha ultimato Il comune di Fano Ha ultimato La bonifica I lavori Negli edifici Dell'ente locale Tra cui Parasporte 18 scuole Sono durati Circa 4 mesi Chiudiamo La rassegna stampa Dando un'occhiata Alle colonne Alle pagine Del Corriere Adriatico La pagina di Fano Apre con La festa di San Silvestro San Silvestro Sale sul palco Una non stop Dalle 22.30 Di musica Danza E comicità Con i ragazzi Di amici E tanti ospiti Poi Ricorda Il giornale Che sono vietati I botti Nell'ultimo dell'anno In tutto Il territorio Comunale Addirittura Dal 30 dicembre Fino al 6 gennaio C'è un'ordinanza Che dunque Vieta di sparare I botti Poi Sull'allarme Invece Inquinamento La centralina Di via Montegrappa A Fano Parla Benini Che è tecnico Dell'ARPAM Sulle PM10 La situazione Negli anni È migliorata Sottolinea Benini Come gli sforamenti Siano di minore gravità Le auto elettriche Sono il futuro Frutta E non solo Donata a chi Ha fame Sempre dal Corriere Un gruppo di disoccupati Alla Codma Raccoglie cibo Eccedente Lo impacchetta Redistribuendolo Ai fanesi Bisognosi E qui Vedete in questa immagine Tre volontari Disoccupati All'interno Del capannone Dove si raccolgono Questi generi alimentari Frutto di eccedenze Di produzione Ed è una bella Bellissima Iniziativa L'80% Delle richieste Di sostegno Ci viene Dicono da famiglie italiane Però il nostro Servizio È a rischio Ci sostengono Due panifici E un centro commerciale Sarebbe importante L'aiuto Della grande Distribuzione Con Forbici La Befana Si festeggia Pedalando Sarà una pedalata Allegra E colorata Quella organizzata Da questa associazione Ambientalista Forbici Di Fano Proprio per la giornata Dell'Epifania Poi L'altra Pagina ancora Del Corriere Adriatico Quella di Fano E Valle del Cesano Anche qui In evidenza La musica E le risate Per chiudere Il 2015 Dal San Costanzo Show Alla pianista Sandro Ivo Bartoli Dalla cena solidale Al brindisi ecologico Ecco Tutti gli appuntamenti Che possono esservi utili Soprattutto se ancora Non avete Trovato nulla da fare Per l'ultimo Per l'ultimo Dell'anno Poi Il secondo Il secondo Vincitore Per un posto All'aggetto Sarà estratto Domani Durante l'edizione In diretta Del notiziario Di Fano TV Occhio La notizia Delle 20 e 30 Il nome Del secondo Fortunato Socio Dell'ente Carnevalesca Che appunto Vincerà Un posto Nel carro Nel carro Allegorico Del carnevale 2016 Durante una Delle domeniche Di sfilata In programma Il 24 Il 31 Gennaio Oppure Il 7 Di febbraio Quindi Per partecipare A questa estrazione Ricordiamo Che è necessario Tesserarsi Al costo Di 10 euro Fare Questa tessera Socio All'ente Carnevalesca C'è un Infopoint Anche In piazza 20 settembre Per i tesseramenti Quindi potete andare Lì Domani sera C'è questa estrazione Quindi insomma Si può fare Ancora Da Senigallia Babbi Natali Funamboli Guardate questa bella Fotografia Curiosa Di questo Babbo Natale Lo vedete qui Che è sospeso Su una corda È sospeso Su una corda E sta attraversando Praticamente Il fiume Misa Di Senigallia Spettacolo improvvisato Di 5 giovani Marchigiani Uniti Per la passione Dalla passione Per lo slackline Eccola qua Questa Questa bella immagine Questo Questo giovane Che attraversa Il fiume Poi anche qui Si parla Senigallia di San Silvestro Più decibel E musica No stop Quindi più decibel Inteso come musica Più alta E musica Senza sosta Festa in piazza Con uno spettacolo Di luce e colori Che sarà proiettato Sul palazzetto Baviera Poi la cronaca Insieme alle sue Collaboratrici Sopra Massimiliano Santini Maglia nera In fatto di presenze Posizione Condivisa Con Roberta Crescentini Luca Bartolucci Alla guida Dell'assemblea Ha raccontato Anche i momenti Di commozione Chiudiamo con questa Notizia Di cronaca Un escursionista Pesarese Soccorso E recuperato Sulla Maiella La notte prima Aveva rifiutato L'aiuto del CAI Ma ieri Immobilizzato Dagli arti inferiori Congelati Ha lanciato L'SOS E con questo Chiediamo qui La nostra rassegna stampa Grazie per averci seguito A voi tutti Auguro una buona giornata Vi do appuntamento Questa sera Alle 20.30 Con il nostro TG Occhio alla notizia Arrivederci Grazie a tutti